Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo mio canale Oggi ragazzi siamo qui con il post partita di La Madrid-Getafe E alla fine l'ho fatto oggi il video perché non ho avuto tempo Non ho avuto La Madrid che batte il Getafe 1-0 ragazzi Basta il rigore di Sergio Ramos a 11 minuti per recupero Dalla fine della partita Il Barza ora è a meno 4 La Madrid vola a più 4 La Madrid che è infermabile Ormai le vince tutte la Madrid Ha vinto con le Valle, ha vinto con la Svedate Ha vinto col Valencia, ha vinto con le Spagnoli Ha vinto col Mallorca, ha vinto con tutte Oggi vince anche contro il Getafe E la sua quinta vittoria consecutiva Ma non si ferma più A 5 giornate dalla fine Arriva il KO Il Barza forse rinuncerà allo scudetto? Vedremo, sarebbe un fallimento? Non lo so, c'è ancora la Cepes per il Barcellona Però certo Allo scudetto ci piava molto al Barcellona Per avere il decimo scritto con sicurezza Per il Barcellona non può stare per niente Invece perde questa occasione Clamorosa possiamo dire Vedremo Vedremo cosa succederà in passato Un tanto la Madrid allunga più 4 su Barcellona E questo ci ha fatto Sargeranno sempre su di cui Quindi ragazzi Se vi piacciono mi piace Vi commento Iscrivetevi al canale Se vi è inizio a Twitch DarkFiveT3 Noi ci becchiamo al prossimo video Ragazzi Noi ci becchiamo al prossimo video